Se c'è un modello che qui non poteva mancare a Francoforte è proprio lei la nuova Opel Corsa anche perché Opel è di casa, la sede di Russell Sime è qui a pochi chilometri dallo stand. Per la sesta generazione di Corsa Opel ha lavorato davvero molto sodo, giustamente perché lei è il modello più importante della casa del fulmine e anche il più venduto, pensate che in 37 anni, e lì abbiamo un modello di vecchia generazione, ne sono state vendute oltre 13 milioni. Di lei e della Corsa sappiamo ormai praticamente tutto, per esempio che Opel ha puntato moltissimo sulla leggerezza del mezzo abbassando il peso di oltre 150 kg, sala solo a 5 porte ma con linee sportive che non faranno rimpiangere la versione a 3 porte perché il tetto si è ribassato di 48 mm, è più spiovente, l'interassi è più lungo e il look è quasi da fastback che enfatizza il DNA senza che lo spazio abitabile ne abbia a risentirne. Le misure vitali parlano di 4,06 metri di lunghezza. Per ospitare meglio i 5 passeggeri, vedete che qua di spazio ce n'è abbastanza e anche l'altezza è cresciuta di 3 mm. Sarà disponibile la nuova Corsa con una motorizzazione diesel 1.5 da 102 cavalli e la benzina 1.2 da 75 o 130 cavalli con possibilità di averla con anche il cambio automatico a 8 rapporti con palette al volante. La nuova Opel Corsa è già ordinabile, le prime consegne saranno previste per la fine di novembre ma la vera novità in casa Opel è l'arrivo della Corsa elettrica che per la prima volta si presenta appunto in versione full elettrica capace di 136 cavalli e di uno 0-100 in soli 8,1 secondi avrà 330 km di autonomia con batterie che potranno essere caricate in 30 minuti all'80% della loro capacità. Opel le copre già con una garanzia di 8 anni quindi quasi praticamente per tutta la vita dell'auto. Grazie per la visione!